festa del turista rosolina mare in particolar modo possiamo dire località del mono naturalmente abbiamo beccato come sempre il sindaco buonasera sindaco la stagione oggi siamo all'otto di agosto sembra bene comunque dai la stagione sta andando bene siamo nel clou diciamo del periodo di vacanza qui a rosolina mare e stasera festeggiamo un appuntamento importantissimo che la festa del turista la sagra di rosolina mare per eccellenza perciò orchestra tra poco la tombola e poi faremo un bellissimo spettacolo pirotecnico in riva al mare io ho paura sindaco e quando lei comincia a vedermi si nasconde perché io sto diventando uno stalker o sbaglio no assolutamente è sempre un piacere parlare con voi con i nostri amici che ci seguono e anzi facciamo informazione che è una bella cosa così anche le persone da casa possono sapere cosa fa rosolina ma cosa fanno tutti i comuni della provincia di rovigo perché state facendo veramente un bel lavoro di informazione e di stalkeraggio no dai non è stalkeraggio è sempre un piacere parlare con te leandro grazie sindaco complimenti comunque un bel colpo d'occhio un sacco di gente e bravo poi merita questa località qua che è la più tranquilla diciamo tra di rosolina mare ma che comunque dà soddisfazioni sì indubbiamente noi siamo una località da family destination abbiamo tantissime famiglie però siamo pieni siamo pieni sia qua rosolina mare che dal barella stiamo registrando di numeri interessanti e perciò viva l'estate e viva rosolina mare non è vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.